buonasera bentornati mi si sente bestiace eccoci qua incredibile horror night di nuovo lunedì horror aspetta ecco eri sporca mamma aspetta aspetta ecco qua così ah che bello con queste gote rosse bestiace bentornati in questo incredibile horror night in compagnia dei morti che in realtà si fanno compagnia sempre solo che noi non lo sappiamo e teoricamente non vorremmo ma sono attorno a noi gli spiriti dei defunti gli spiriti dei cari oddio molto cari alcuni cari non erano però carinamente ecco diciamo che si sono levati dai coglioni eccoci qua bestiace incredibile siete pronti mortuari assistant reduci da una live di venerdì che è stata bellissima in compagnia di codomo kurulili e sam che tra l'altro saluto di nuovo è stata la nostra prima live a giocare tutti insieme questa è la faccia di uno che è felice dell'esperienza c'è è stata una bella esperienza ragazzi non il gioco ma il giocare con gli altri e quindi ne faremo sicuramente delle altre ah ciao salve salve adesso vi saluto calmi calmi sto bene sto bene sto bene sto bene sto bene cazzo sono tranquillo sto bene che calmi boni li boni cosa volevo dire cosa volevo dire ce l'avevo qua sulla punta del cervello sull'epicefalo nell'epicentro della cefalea qua non mi viene ah sì stasera è una bellissima horror night di lunedì sera con contorno di gastrite perché sono due giorni che ho la gastrite mi è ritornata a profusione la lava nello stomaco e quindi ragazzi abbiate pietà se nel mentre sentirete suoni che cazzo c'hanno i baffi e se sentirete altri suoni è perché il cane pian piano si sta appropriando di ogni proprietà della casa adesso del divano è riuscito ad approdare sulle coste del divano e ogni tanto sguazza lì si mette si appollaia con le sue zampe da pollo se le infila sotto l'ascella e si ferma e si 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 gode l'attimo e qualsiasi cosa si avvicini inizia ad essere mordicchiata teneramente come soltanto i cagnolini sanno fare quindi giocando e sbragando metà delle mie appendici a metà però è un cucciolo e quindi non devo fare niente che spavento eccoci ci siamo ecco cosa devo dire guerriera celtica grazie per l'uno abbiamo riattivato le donazioni che non ci sono state per un periodo adesso arrivo grazie a tutti voi sab perché non ci sono state perché gli amici americani hanno deciso di chiudermi il canale di paypal il canale il l'account del conto di paypal così a cazzo senza che io sapessi nulla poi sono andato su paypal e ho detto vabbè ma andiamo a vedere e c'era scritto no 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 compariva il ciccione di non si può dire ciccione non si può dire e adesso mi banano il canale compariva l'obeso di quello lì come cazzo si chiama di giurassic park avete presente quando mette la password ah ah non può entrare ritenta quelle robe lì compariva lui mi diceva no non si può fare e quindi niente basta in sostanza ho dovuto mettere di nuovo tutti i miei dati ed è partito ce l'abbiamo fatta ragazzi siamo connessi all'infrastruttura paypal è tornato e quindi sono tornati anche le donazioni che voi sapete che non è che siamo molto è a meno io andrea si andrea figurati andrea in piazza d'altronde l'ho conosciuto così a a a raccattare soldi dalla gente quindi fin fine voglio dire che vuoi che sia però io non lo so non lo so vabbè ma un giorno ne parleremo della questione donazioni perché le donazioni sono 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 una cosa positiva se sono per il canale ma perché stiamo parlando di questo perché che ci fai coi soldi del canale e ragazzi ci faccio la spesa teoricamente la spesa non è per il canale però la spesa per me come facciamo sono un egoista sì sono un egoista ma meno male che sono bellissimo elena garold fermi che se no già partite jaco sono dissociatore ricca iaremi toro chinax maximo sami horizon già dux becchi a leo moody aldwin bellissimo meno male che camuffo dino fotopiedi please arrivano datemi solo un attimo di tempo mi devo ritrovare ormai sono protesi ma dovrei averle nel cassetto aristogatti operatore twitch enrica sabella ardian giudetti polifemo poi chi altri giangi sabrix robin daxie danni eccolo lì ciao sono nuova e ti seguo da bocca mi piace un sacco come streamer sei stra divertente mi saluti per favore certo assolutamente che no vabbè non il saluto l'ho fatto quindi basta giulia volti garold di nuovo garold basta garold cialo gingi gingi principessa gloria il pepe basta l'ultimo degli ultimi chi sarà chi sarà stasera l'ultimo degli ultimi nisha sx grazie pieto per i tre allora adesso non è che noi iniziamo che per tutta la live iniziate a rompere i coglioni con le donazioni così che mi spaventi perché sennò le disattivo di nuovo richiamo gli americani dico senti buttami giù di nuovo l'account perché si stava bene quando si stava peggio ma insomma ma insomma dobbiamo anche cicciarare di un po di avvenimenti interessanti che stanno accadendo nel mondo ludico nuove uscite nuovi giochi tra cui spider man spider man marvel spider man per pcv che giocheremo e vedremo le diverse versioni tra pc e playstation sai che differenze beh insomma sarà quasi altalenante vedere è e invece non cambierà una bene amata ceppa forse girerà peggio su pc come tutte le esclusive sony d'altronde sto facendo partire il gioco nel mentre tranquilli allora abbiamo fatto l'ultima volta il finale cattivo il finale dove teoricamente il finale dove si perde vediamo di riuscire a fare il finale dove si vince beh no non c'ho voglia va bene qua la webcam è giusto metterla lì mio i cazzo nessuno l'audio l'audio c'è check sa sa prova 1 2 3 prova se bro tutte quelle cagate che si dicono per rimedesimarsi nel ritmo se voglio migliarti un regalo come faccio aprimeremo prima o poi una casella postale perché sono stufo di ricevere le vostre appendici e le vostre immagini delle vostre appendici dino giocalo bene l'ultima volta hai fatto gli affari tuoi praticamente come ti permetti ma come ti permetti come cazzo ti permetti come cazzo ti permetti come cazzo ti permetti vi do il tempo di registrare l'audio così la guardate come cazzo ti permetti francesco grazie mille per i quattro tu valhalla beh dino non si fa prima a bruciare direttamente il corpo infestato e ragazzi se potesse fare abbiamo già finito il gioco ma bisogna gustarsene le cose no avete sta voglia di arrivare alla fine ma gustatevi il mezzo devo far continua continuiamo e andiamo let's go 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 mi sono rotto un dito nel mentre mi mettevo a mio agio la cama è in mezzo alle palle ma non c'è niente lì ragazzi c'è il simbolo del caricamento che cazzo volete adesso vediamo se è in mezzo alle palle o no mi ricordo di questo gioco adesso mi è venuto in mente spostiamo la cama perché altrimenti allora eccomi qua aspetta a posto a pasta ci siamo un uomo di importanza come potete vedere egocentrico centrico direi anche guardate non ho per niente paura ormai vedete mi giro dove voglio non succede niente vedete sono padroneggio al cento per cento il gioco allora col tasto spazio possiamo accedere alla cartelletta iniziamo a esplorare questo è il secondo turno quindi la prenderemo proprio lì non muoverti non girarti non sbattere le palpebre perché altrimenti se non sei morto t'ammazzo la sicurezza voglio dire ha girato la testa da solo è ancora vivo abbiamo un capezzolo rosso non so di cosa sia morto una dermatite estrema si si vede vedete ecco l'altro qua c'è un altro ancora l'audio dovrebbe essere buono io se mi trovo qualcosa a fianco attorno mi incazzo come un caimano chi è grazie mortal per i mille grazie mille per i mille grazie mille grazie mille per i mille grazie grazie sto un po cacando di già io ve lo dico altre punture d'insetto ottimo abbiamo fatto tutti 3 di 5 minchia stava messo male il ciccio a questi ematomi questi eritemi voi che siete esperti di cadaveri non so per quale motivo ma ve lo chiedo a voi a cosa sono dovuti a a boni bello bello ha preso il ferrozo da stiro dal lato sbagliato there we go there we go abbiamo tutto quanto e quindi andiamo a mettere non ce la faccio io sto gioco cristo io so perché è quel gioco dove ti cacchi sotto per 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 jumpscare posizionati strategici quando meno te l'aspetti cambi visuale allora alberto patton 42 anni portati benissimo con questa pelle molto liscia i pori aperti su r scholden abbiamo la contusion e una mid abrasion sarà caduto dalle scale un emangioma un emangioma non so come si dice sulla mano una contusion sull'altra mano e un blemishish sulla gamba destra dove sta qua no destra che che è stato è entrato qualcuno avete sentito un campanello no ragazzi no ragazzi no ragazzi no cos'è stato a non voglio girarmi verso la stampante o odio la stampante non mi piace a a va bene così cos'è stato cos'è stato quel suono e è normale che si sentisco cos'era quel campanellino ragazzi non abbiamo mai sentito quel campanelli va tutto bene no 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 sta per succedere qualcosa il corridoio nel corridoio ci si spaventa stiamo per avere un jumpscare di ovviamente non avrò paura perché ormai abituato esperto ma piano può aprirle piano le porte cristo ah è tutto aperto è tutto aperto cristo eccolo lì è tutto aperto è tutto aperto è tutto aperto ci facciamo una passeggiata fuori che dite chi è che ha aperto la porta ragazzi hanno aperto questa perché questa qua quella che fa esatto no qualcuno è entrato dentro ragazzi madonna santa madonna santa madonna santa chi c'è chi c'è è un palo della luce è solo un palo della luce sono un palo della luce pronto non si vede un cazzo chi va là c'è nessuno ah è vero tra l'altro qua c'è una porta c'è c'è una porta c'è un semi interrato ah forse l'old key apre questo ragazzi dov'è che era l'old key ve la ricordate c'era una vecchia chiave dov'è che era è cambiato il corpo del tipo ma non è vero che non siamo ancora tornati come cazzo fate saperlo ma non sparate cacate dov'è che era dino cazzo mi stai terrorizzando tu e ragazzi funziona così grazie jaco per l'uno doveroso doveva assolutamente doveroso sì non è che sul tetto stasera non respiro e tu ma la porta non era la porta non era aperta qui date qua su 2 zitti zitti tutti ho vinto buono mettiamoci nell'angolo dell'invincibilità a ragionare dov'è era la vecchia chiave. Serve per l'armadio dei demoni vicino alla scrivania. Vabbè, poi, un pochino più specifico. Questo qua è l'armadio dei demoni. L'old key era qua da qualche parola. C'è qualcosa qua dentro? Una pinzatrice. Una spillatrice. Minchia, ragazzi, questa è un'arma, eh. Una volta ci ho minacciato qualcuno. Attenzione, un test di gravidanza? No. Cos'è che era quella roba lì? Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Dove cazzo era l'old key? Non mi ricordo più. Facciamo che ti chiudate. Old key. Extra key. Non posso prenderla. Ottimo. Qui abbiamo Mr30047. Ah, VC è un codice. Questo codice, che cazzo è? Cosa apre? Non lo so. Ricordatevelo, ragazzi. Allora, ve lo segnate sul taccuino, per favore. Prendete penna e e matite, e matite, e carta, e 30047. Se siete un pochino più artistici, ok, più è? Sulla mano. Come fanno le squinse quando vogliono darvi il vostro numero di telefono dopo che gli avete servito solo e soltanto cinque mojito. A otto euro. L'uno. Qua? Fazzoletti usati. Qua non si apre. Ma non c'era uno? Madonna, che ansia. Dio bono. È per il computer Dino. No, ma io ancora non lo voglio per... Che cazzo è stato? No, li passi dietro la schiena, no. Io il computer non lo voglio, non lo voglio... Io il computer, io il computer non lo voglio toccare. No, no, entra nel computer che siamo sicuri nel computer. Ok. Night Shift. Cos'è che era? 3-0? Orca puttana, no. 30047. Che cazzo è sta roba? Night Shift database. This database is a collection of all my findings. Che succede? Sento musiche. La led to the banishment of conventus demons. The history of the demoniac. Years of traveling and piecing together whether or not it's... Vabbè, quindi questo qua è il diario del tizio. Path to banishment. Emblem each... Ah, qui ci spiega tutto. Strips per il cabinet. Ok, compare found demoniaci... Compaiono i sigili demoniaci. Costruisci il marchio. Fai attenzione ad ogni attività demoniaca. Grazie, al cazzo. Place the mark on the body. Believe to have demon... Ok, dobbiamo mettere il marchio sopra il corpo che pensiamo abbia il demone e poi bruciare il corpo prima che la possessione sia stata possessata, posseduta, in possesso. Che faccio? Che ho fatto? Mica, quanto ci mette a cambiare schermata? Era così... Ci voleva così tanto un tempo? Identify demoniac penancy. Ah, qua ci specifica. Lo specificabile. bello. I marchi, i segni sul corpo, i segni satanici. C'è un video? Bellissimo. Ah, non ti girare, veloce anche tu. Ok, David. Ciao, David. Era altissimo, vedete com'è. Ok. Ah, bene. Il corpo è cambiato. Non so se state notando... Si è mosso. No, no, voglio tornare indietro, si è mosso il corpo. Cosa? Fuck che? Fuck che? Fuck what? Vabbè, stiamo andando. Immolation. Individuous desolation. Sigili, tu come non dimos? Ah. Nice. La padronanza dell'inglese, ragazzi, mi è stata donata gentilmente da Bubble. Piattaforma esclusiva che io, ovviamente, non è lo sponsor del canale. Però, magari se continuo a dirlo, forse, mi pagano un giorno. Tools of Expulsion. E le abbiamo già viste, ste minchiate. Il foglio da bruciare, la roba da mettere dentro il coso per sodomizzare i cadaveri e il marchio per bruciarli. A posto. Quindi, adesso che abbiamo risvegliato il demonio facendoci i cazzi suoi, direi di proseguire con quella che è l'attività. A prendere il cavo da infilarli in bocca. Non mi ricordo già più, eh. Però vado a memoria, ragazzi. Non mi voglio girare, non mi voglio girare. Io non mi voglio girare, ma mi sto girando, perché sono curioso e chi è curioso finisce. Perché si sono aperte le porte? No, 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 no. No, 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 no. Ma è gonfio il cadavere, era così gonfio. Prima è morto affogato. È un bel bebè comunque. Facciamo finta di niente. Dai, facciamo finta di niente. No, no, un solo bisturi. Una forbicina. Eccola là. Chiudi sta cazzo di roba. Hai e contact, hai e caps, chiudi sta roba. Grazie. Con calma, eh Ci vado? Vado là dentro? Non lo so Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ho vinto Non è successo niente, hai visto? Dio no, i corridoi del cazzo Ok, ok Ok, ok Zitti, zitti, zitti Operiamo Ok, ci siamo, via Ha un sorriso smagliante Mai però che troviamo qualche cadavere interessante Magari qualcuno con una vita abbastanza mondana Qualcuno che magari si è limato i denti da squalo Per essere un pochino più rude Durante i suoi video di Trap Music Apriamo le pupille Mettiamoci la Ye Cups Chiudiamo gli occhi Eccolo qua E questo è fatto Poi Che devo fare? Devo mixare L'embling fluid in the pump E io questa cosa la odio Perché mi devo muovere Devo girare molto la visuale E io odio girare molto la visuale Beh, per adesso ci sono pochi demoni C'è nel senso Devo stare zitto Ci serve questo E lo andiamo a mettere qui Ci serve Ah Io non mi voglio girare Non voglio girare la visuale Ci serve questo Oddio E lo andiamo a mettere qui Poi cos'altro ci serve? Non mi ricordo più L'etanolo Il metanolo è l'etanolo Il metanolo è di là L'etanolo dove cazzo sta? Ehi Il buco del culo mi si è cementato Non ci passa manco un ago Amico mio Tutto bene? A posto? E che cazzo devo farsi con te? No Ehi Buono Ok Buono 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 Non sono per nulla Turbato Non sono per nulla turbato Bisogna semplicemente autoconvincersi di ciò Ed è fatta Dove cazzo era? Era questo? Cos'è? Cosa cosa ho toccato? No Non mi ricordo le cose Dov'è che era il Il glutareldeide Il glutamato di sodio Dove cazzo stava ragazzi? Non mi ricordo più Sono i vapori dell'etanolo Sì 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 assolutamente Ma non era questo? Il cazzo stava qui? A che ombra seducente? Ma se ci mettiamo dentro un pochino di swan per lavare i piatti Ma se ci mettiamo dentro un pochino di swan per lavare i piatti va bene uguale? Chi lo sa? Nelle ante in alto? Bravi ragazzi Madonna santa Quell'angolo lì è bastardo perché compare sempre qualcuno A quello vi ci piace nascondersi là dentro Mi son girato troppo velocemente Mi devo ricordare di non farlo più Calmi Perfetto Avviamo the machine Ah no devo prima fargli il buchetto nella gola Giusto Sta buono lì eh Allora io apro eh Oddio ok ci siamo Con calma Ecco qua Ah i tubi giusto Torno subito Rimani un po' aperto Tanto ormai Quasi quasi premo la finestra per cambiare l'aria ma Direi che non serve Non riesco Ok Preso i pvc Io mi muovo a gambero così nulla può terrorizzarci Perfetto Pietro grazie per l'uno Ma stavolta non hai azzeccato il timing E non mi sono cagato addosso Bene Il tuo corridoio Qualcosa Ho sbattuto contro qualcosa ragazzi C'è qualcosa di solido dietro di me Guardate la visuale si Non mi piace C'è qualcosa dietro di me ragazzi C'è qualcosa dietro di me ragazzi Che cazzo è? Ah il mobiletto Ah Che? Ho sentito piangere No no Non fa Che poi piango anch'io No 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 Ma quasi ignoriamole e basta Aspetta che si Si svuota qua turn off the pump, remove the tubes and close incision e via non mi piace, non mi piace ho sentito frignare, ho sentito ho sentito frignare, ho sentito facciamo una cosa, chiudiamo qua la porticina olè, e apriamo questa e richiudiamo questa, apposta se c'era il mostro se ne è andato fuori un po' come le mosche, via buono adesso dobbiamo riempire la bag lì dovrebbe essere di qua se non erro esatto, ciappa lassù e via no, no, no tutto a posto, tutto a posto tutto a posto perfetto caviti fluide oh cristo santo ok sento della resistenza ci siamo dobbiamo gonfiare il cadavere riempirlo come oh, si è spostato da solo come un magnifico palloncino per le feste dei bambini eh, ma che bello il budello non si gonfia la pancia però la tecnologia ragazzi la chirurgia estetica ha fatto passi da gigante ma poi gli rimane il sorriso sotto l'ombelico cioè, è una bellissima pancia ti viene voglia di farci le pernacchie eh, io lo dico brrrr there we go mo? bisogna pulire? no, bisogna prendere il tank cleaner no, io non ce la faccio io non ce la voglio fare oddio ragazzi guardate là è sotto il pavimento sì, t'ho visto t'ho visto t'ho visto t'ho visto t'ho visto a posto a posto a posto ho visto Cristo odio le porte chiuse e gli spazi angusti ciapa su refullo a questo a gambero torniamo indietro e andiamo a vincere chiudiamo la partita con delicatezza con classe non ce l'ho fatta guardare madonna mia ragazzi manco io ne sto giocando si, si indietreggia lentamente voilà a posto è tutto sotto controllo nessun demone nessun demone devo respirare la porta la lasciamo aperta ragazzi posto? buono apply the monsterizer to the facial feature la lampada mi ha spaventato per un secondo quindi dobbiamo mettergli la roba in faccia al ragazzo al ragazzone eh la porta la chiudiamo va chiudiamo la porta va chiudiamola si molto meglio chiudere la porta va poi mi dite che la paura più grande sono i ragni andate a fare in culo va io non mi voglio girare non mi voglio girare ma lo devo fare ok eccoci qua non 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 fare niente eh shh oh cristo sta succedendo bene ragazzi sto andando in eh qui con piccoli momenti di lucidità che è la protagonista dove tutto quanto diventa giallo ci siamo? perchè non sta funzionando? si è bagato qualcosa? perchè non sta funzionando? mmm gli sto dando una bella ripassata al ciccio se apre la bocca e bacia la telecamera io do una testata alla webcam non va non va non va ragazzi non va dottor pivetta tamponi non sta andando ragazzi perchè non va? che cazzo cosa ho rotto? bene si è impalato il gioco è successo qualcosa di paranormale il gioco si è bloccato per quello facciamo un giretto si sbloccherà fidatevi me lo sento che cazzo è stato? grazie a Alex no 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 pausa sigarettina a posto a posto con le mani così proprio nessun'ansia io so che prima o poi ci becchiamo qualcuno nel sedile posterioso che ci guarda sarà quel momento ho cliccato col mouse ragazzi ma secondo voi non ho cliccato col mouse mentre tamponavo dai su dobbiamo cliccare tutto col mouse ok Grazie. Adesso va. Visto? Bisogna solo farsi una bella passeggiata. Troi? Mo? Return the body. Porca troi. Porca putt... No, 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 no. Ah! Ok, ok, è fatto. E anche questo ce lo siamo levati dai coglioni. L'intelligenza artificiale di questo gioco non è così elevata. Di conseguenza i mostri rimangono posizionati in un punto. Dobbiamo ricordarci questo, ragazzi. È solo un gioco. È solo un gioco. Io non mi ricordo dove stava il cadavere, però. Quindi, essendo solo un gioco... Diciamo che è... Facile capire i limiti del gioco. Ah! E capire fin dove si può spingere il gioco. Buono così. Non si stacca più la roba. Perché non si stacca... Ah, perché non ho schiacciato il tasto. Eh! Voilà! Ora, vogliamo provare a bruciare il foglietto per vedere se è uno di questi stronzi? Domanda tecnica. Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di lavorare qui? Ci serve il foglietto, però. E il foglietto è di là, oltre il corridoio. Beh, sai che c'è? Fanculo. Passo da fuori. Non ci passo di là. Mi dispiace. La porta la lasciamo aperta. Se mai che qualche spirito decide di farsi un giretto in macchina. E via. Cristo? Cristo? Che gioco mi stai facendo? Perché? 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 Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Che cazzo c'ho avuto in mente? Dov'è il cadav... Ah, già, giusto. L'ho portato di là. Eh! Che devo fare? Ah dai, foglietti. Oddio, oddio. Piano. Giriamoci piano. No, 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 no! Regola degli horror. Teoricamente. Il mostro. Non ci c'era fuori per altri cinque minuti. Orca puttana Di già? Partito un simbolo? Dove è finito? Dov'è? Dove sta? Qua? Qua Ricordatevi sto cazzo di simbolo Ah no beh potremmo comporlo già adesso il marchio Credo sia... non mi ricordo più Quale cazzo è? È tipo una N Una N al lato Questo sarà? Ma io che cazzo Questa? A posto E un marchio? Cielo abbiamo C'abbiamo nessun altro Che male non fa Prendiamo l'altro cadavere? Che dite? Madonna santa è tutto aperto Ragazzi è tutto aperto adesso perché voglio dire Ormai Chi ci ferma più? Arrivederci Dean Linsday Come Dean Linsday? Ma non siamo noi la Linsday? La Linsday? Non siamo noi la signorina Linsday? Non mi ricordo più qual era il nostro nome Attenzione Marchi del demonio Guardate cosa c'è sulla pelle Graffi E ha appena sbattuto le palpebre Direi di rimetterla dentro il suo loculo fottuto Dalla quale è venuta E non Cagarla Più È lei il demone Ne sono sicuro Abbiamo letto prima Se troviamo dei chiaffi sul corpo Probabilmente è Udemongi I pattongi A lei si chiama Rebecca Ti chiami Rebecca Ho sputato sul microfono E io? Ma vaffanculo Ma vaffanculo Andiamoci da fare Allora Via Ispezione Signorina Beh è in salute Ha delle gambe lunghissime Ma è in salute È tutta cosce Partiamo dalla testolina Beh Beh È struccata Dai possiamo anche capirlo Non ha niente sulla testa Forse un neo qua Un brufolo qui Prima o poi si gireranno Con il sorriso del Joker Sarà a quel punto Che Ha già Ha già Ha già il collo squarciato Ma Aspetta Forse Perché ha già il collo squarciato Ok Non ha altri segni Ma sulla cartella Quanta roba bisogna trovare Su di lei Uno di tre Ah non ha tanta roba addosso Ha i piedi blu Ma ad alcuni può piacere Avatar No Fin su Avatar Saranno solo Primo piano sui piedi Ragazzi Perché sarà Diretto da Tarantino Attenzione Due di tre Non mi sento molto a mio agio There we go Che è stato Che cazzo È stato il mio È stato il mio collo A fare È stato uno spasmo Dell'ugola Non per favore Eh Dio non lo sopporto più Sto stronzo Non mi sono neanche mosso Vabbè Vabbè È stato peso Meno peso del previsto Allora Signorina 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 Altro Vedete Comunque una bella ragazza Dal momento in cui Ecco Mid abrasion Sulla mano sinistra Dov'è? Qua Contusion Sulla La mano sinistra La Sì Dov'è? Qua Sto sbagliando tutto Vero? Questa è la Questa è la gamba Che cazzo sto combinando? Oh Eh Contusion Sulla shoulder Qua Oh Mid abrasion Sulla gamba Niente Ma Sull'altra Porca puttana Sto sbagliando tutto ragazzi Perché non sto leggendo Sono sconvolto Apposto Ce l'abbiamo uno di quei cartoncini Da bruciare Letting strip Sì ce l'abbiamo Siamo già pronti Siamo già pronti per il misfatto Chiudi qua va Mi sono cagato addosso Io no Ho avuto una discreta Moderata quantità di Di paura Il giusto Il giusto Quella porta noi non la apriamo Finché non sarà più necessario Perché io col cazzo Che ci ritorno lì Bene Riturniamo dal corpo E via E via Uno di questo Uno di questo La fastite Mi sono girato troppo velocemente Un bisturi Delle belle forbicine Da tracheite Da tracheotomia Eccoci qua Qua chiudiamo questa porta maledetta A posto E abbiamo vinto Cheese Uscirà Con dei denti smaglianti E da un po' che non vedo la televisione Mi mancano le pubblicità dei dentifrici Gli omini blu dentro la bocca Che ti puliscono il palato Eh questo Questo A posto Ormai so quello che devo fare Non mi ricordavo più Ok mi servono No C'era una testa L'avete vista? Ditemi che l'avete vista L'avete vista? Per favore Ditemi che l'avete vista Che non l'ho vista solo io Perché se no L'avete vista? Sì Ok Lasciamola lì Eh che dite? Lasciamola lì Lasciamola lì Qualcosa si affacerà alla finestra E quella finestra lì Io sto dando troppo Non devo dare per scontato Gli angoli del gioco Ma lo sto facendo Formaldaide Metanolo E qui c'è qua E poi L'ultimo ingrediente A posto La miscela per le superchicche È pronta Ah serve giustamente Serve il sangue di diavolo Il sangue di diavolo è qua Mio Ok Tu vicino nel Collo Vedete che c'era già Il segno Ragazzi C'era già Quel cazzo di segno Non mi piace Non mi piace Per niente Ah mi serve Il tuo ipvc Ah Mi sento confuso Dammi qua Non voglio vedere Non voglio vedere Non voglio vedere Non voglio vedere Ok 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 Ah Oh Oh Ehi Era un tuono Era un fulmine Era un fulmine In concomitanza con la cessione della macchina Semplice Una bellissima coincidenza Eh Quasi da farci Da condividere sui social Ragazzi Non ci potete credere Oggi Ho sbucciato un altro corpo Ed era il corpo Di una donna giovane È il suono delle ciale del caffè Sì Sbaglio O il diavolo ha appena detto Crowdfunding Evidentemente è una campagna Anche lui in atto Peccate dunque Peccate E donate E donate non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio ok no non ci riesco no 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 oddio dobbiamo andare in bagno no dobbiamo andare in bagno no no il cavi di fluid aspetta 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 perché continuo a fare giro il girotono a fianco a sta morta ma che perpaccino eh oh cristo santo dio lasciamo gocciolare che dite poi eh prima o poi non mi piace no 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 che? ancora? quello appeso per i pollici pratica comune Che sono sti disegni? Buonasera Salve Permesso È danza artistica Est44 Che cazzo vuol dire? Ok Ehi Ehi Pronto? Pro Che cazzo sta succedendo? Dove sono? Dove cazzo sono? Ah sono in bagno Il famoso bagno Ok Est44 E che cazzo è sto Est44 ragazzi? Buah bene dai Non è successo niente A posto Nella foto sullo specchio non c'è Non c'è più la foto sullo specchio ragazzi Mica ma neanche Shining però eh Ma forse era Est44? No ha cercato Est44 Credo Non c'era una T Esti latino significa Esso Esso è 44 Uno ma tanti Una legione? È il diavolo davvero Ah però Questa immagine mi ricorda Quella simpatica volta in cui Dovevo fare un esame del sangue E l'infermiera non riuscì a trovarmi la vena E si divertì a Andare a scavare È stato comunque un lieto fine Mix cleaner in the bathroom No devo tornare in the bathroom? Ma chi ci vuole andare in the bathroom? Nessuno Te lo dico io Orca puttana Era una specializzanda ragazzi Non bisogna Eh? Avere pregiudizi Mi ricordo il dottore a fianco che mi disse Sta imparando Eri mortacci ma devi imparare proprio su di me? A quanto pare si Bussano a quest'ora del mattino Chi sarà mai? Chi è? Ma perché scherzo con Diavolo? Permesso? Andiamo a vedere dall'altra parte Abbussato C'è nessuno? Hello? È perennemente dietro di me Vero? Però l'arredamento è molto bello Molto natalizio Mi è venuto a sbadigliare Dietro la foto in bagno C'è un codice che forse ti serve Per aprire quello scomparto Nascosto dietro un mobile Quel codice lì Eh ma la foto in bagno Non ce l'ho più ragazzi Però andiamo a vedere Vedete? Non c'è più la foto sul bagno Era lì nella Qua Ma non vi ci è Non vi ci è Perché non vi ci è? Nel cassetto I fazzoletti sporchi Se li sposti C'è una chiave Dino Che schifo Che schifo Io quelli Non ce li tocco Vabbè facciamo Eccola qui Eccola qui La large old key Però non pare una porta Che serva Una chiave che serva Ad aprire con la roba lì Mix clear and the metal Sì Non voglio guardare Ragazzi non credo sia Una chiave per una cantina Perché non mi sembra Una chiave per una cantina Non posso farvela vedere Aspetta che adesso gira Che si vede la luce Vedete? Cioè Non è una chiave Una cantina Ragazzi Non credo sia la chiave Per il lucchetto Che chiude la cantina Semi interrato Quel cazzo che è Possiamo L'ho droppata per terra Sono un fottuto genio E adesso davanti a me L'altissimo Vogliamo provare Andare a vedere? Dobbiamo applicare Mi sono cagato Adosso per questa merda Perché con Stanno esagerando Allora Ma non è che dietro Non è che dietro sto quadro di merda Uh Io l'ho vista Una chiesetta così in Islanda Una chiesetta nera Bellissima Non è che dietro sto quadro di merda C'è qualcosa Dietro il cristo No Ci guarda con i suoi occhioni languidi Andiamo a cercare La porta del semi interrato Bene Direi che piove La scatola rossa Sulla scrivania Perché c'è una scatola rossa Sulla scrivania Apetta Ci provo ma Large wood key That's not it That's not it C'è qualcuno qui? Mi sto cagando adosso Immaginate di vedere il nostro corpo dentro Che fa la 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 vasectomia C'è la vasectomia È un lapsus ragazzi Perdonate Oh cristo santo no Perché si è spenta la luce qui? Non era accesa la luce qui? Io qui non entro Non ci entro lì Mi dispiace Dino il codice della foto Era 1970 44 Inseriscilo nel tastierino Sì adesso lo faccio Grazie Allora aspetta Tastierino dove cazzarola era? Era dentro l'armadio Sì Ok Però La chiave mi avete detto Scatola rossa Questa? Rebecca Eh no qua c'è il tape recorder Ah già dove c'è apparso sta roba Se no non posso ascoltare Le registrazioni Beh c'è di cazzi Non c'è niente qua ragazzi Allora il cadavere è morto Quindi non è che se ne va Giusto? Giusto Oddio no 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 Ho vinto L'old key A cosa servirà sta cazzo di vecchia chiave? Ah poi avete detto che il codice Aspetta era qua dentro forse Eccolo qua il tastierino Qual è il codice ragazzi? 1.970 E come cazzo si 44 Abbiamo trovato la chiave Che ci serve Io non mi giro Mi son girato Mi son girato strategico però Avete visto? Ho fluidificato il movimento Ho saitato via Una biscia Ah Serpentino Serpentino Ah Ah Come il diavolo Ah 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 Ok Abbiamo la chiave Acchi 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 Chi? Acchi Ah Ah Si è aperta? Ora che puttana Piano Piano Ehi Cosa vedono i miei occhi Ah L'ultiva messa qui Ma posso chiudere Sta roba? No Perché mai dovrei Soffro di paturni E mentali? Pare di sì Sì Zitti Ah allora qua facevi sigilli Ah li faceva a mano Ah però Dear Mr. Sarah No vabbè non c'ho Hai dire giusto questa roba It was a pleasure working with you Ah ok Qui sta evidentemente parlando con qualche Stregone dell'occulto Qualche scienziato Mr. Delver Queste sono le lettere di risposta Akhil Quindi sta parlando con qualche egiziano Esperto In mummia Mi pare giusto Mi pare giusto March 2027 Già il 27 Quindi hanno marciato in 27 Nel 1989 O erano Hanno marciato in 1989 Il 27 marcio Qua Ah Ah sono fatti in cera Le scaldava Che carino Sono stanti E qua ci va Da largo il key Oh 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 I knew you'd find me I'm 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 La voce del diavolo è come il fruscio di mille acque Sh No 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 È una mummia È una cazzo di mummia È una fottuta mummia Ci siamo Ok Quindi questo è il mistero del gioco E questo è il motivo per cui ci sono Tutti sti casini Orca troia Ehi 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 Ah c'è 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 un corpo lì C'è una mano C'è una mano Ma non c'è del sangue Il sangue lo sappava da questo corpo qua Quindi questo era il corpo provente di un indemoniato Dalla quale ciulava il corpo per cercare gli altri indemoniati Bene Bene E quindi Oh mio dio la mia ombra Ho paura della mia stessa ombra Ragazzi Ho paura della mia stessa ombra Apri la porticina degli occhi Belle le animazioni però Dica Volevo chiudere la porticina Non posso chiudere la porticina Eh? Ehi 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 Posto Cos'è? Ah si è chiusa dentro Permesso? No Pensavo mi avesse chiuso dentro Bene Dopo questo incantevole incontro direi che la cosa migliore da fare è salire in macchina E guidare verso ovest senza mai guardarsi indietro Andiamo a farlo No non la richiudo la porta ragazzi È già uscita Non è che c'è tanto da fare Non penso che chiudere una porta fermi il diavolo Me la sento dietro Me la sento dietro Me la sento dietro Apply moisturizer Sento respirare Ragazzi sento respirare Dio Non va bene Non va bene Non va bene Applichiamo sto moisturizer Quindi quella lì era il demonji? Applichiamo il moisturizer E leviamoci dal cazzo Va Signorina A lei Ecco Ridiamo il colore perduto Gli anni di giovinezza Eccoci qua Le tour de body to the cold storage Ma noi dovremmo avere il letting strip Che dovrebbe bruciare in automatico Non sta bruciando in automatico Ah Ehi Ci sono impronte blu davanti alla porta No Che cazzo è sta roba? Oh Cristo Oh No 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 Dove cazzo è il segno? Dov'è? Dov'è il segno? Dov'è il simbolo? Dove l'ha messo il simbolo? Non lo vedo il simbolo Non vedo il simbolo Perché non vedo niente Non vedo niente Perché è tutto spento Dov'è la luce? Dov'è la luce? La luce era qui Ah Ah Eccolo qui il simbolo Che simbolo è? Che cazzo è? È un uncino Che per Che per Che sgosciola Non so che cazzo sia Una roba fatta così Ricordatevelo voi Per favore Che avete più memoria visiva Come gli oranghi Questo Qua A posto E un altro l'abbiamo fatto Riportiamo il cadavere E poi scopriamo Chi minchia è Chi minchia è Orca Sono stanco ragazzi Quello È un seno rifatto Chi è? Cool Grazie mille Lotto Valhalla Non è che dentro la fornace Prima o poi Becchiamo Un bel sorriso Dentro la fornace Dentro qua Il robo Ok Il cane nel mentre Ha deciso di Farmi venire Un piccolo soffio cardiaco Non guasta mai Me lo sento Adò Io mi sento quella lì Adosso Chi è questo? Nathan Smith Bene Pure questo però C'è i segni del demonio Adosso Non riesco a prendere il corpo Ok Nathan Ecciti qua Pupille nere Ho un tatuaggio Ha lo stesso tatuaggio Di Andrea sul petto Incredibile Minchia questo è conciato ragazzi Che succede? Oh A parte che Sembra che è New Reeves Io continuo a dirlo Ragazzi Si muove È un bug? È un bug Guardate la faccia Guardate Quella cazzo di faccia C'è gente Che si è innamorata Di quella cazzo di faccia Forse è meglio Non guardarlo Eh che dici? Oh donna santa A posto Vogliamo bruciarlo adesso? Un fogliettino? Che dite? Ce l'abbiamo? No Ciapalo su Va Ma si Vaffanculo Tanto ormai Il rituale magico Non mi ricordo Hamana hamana Non funziona Hamana hamana Non va Sembra un cantante Dei Nickelback Hamana hamana Non va Non va Ragazzi Sembra un cantante Degli anni 90 Bene Hamana 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 hey Dai Dai Parca puttana vacca È qua È la signora Il 5 lungo Ma non è lei? Ma non è lei La stronza che abbiamo visto giù La stronza Scusate La diavola? Oh Cristo santo No Mi sa che è lei Mi sa che Mi sa che credo sia lei Ah basta 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 Sapete che mi sto iniziando Sto iniziando ad abituarmi All'amico in bianco All'uomo bianco Mi sto abituando all'uomo bianco Pian piano E ai suoi giudizi Ai suoi pregiudizi Buono Qual era il simbolo Il 5 lungo 5 lungo 5 lungo Eccolo qui Back Ottimo Iniziamo l'ispezione Signor Smith Buongiorno Salve Allora Partiamo con la testa Intanto Catalessi facciale Vediamo Questa catalassi C'ha questa Testa Questa A bocca aperta Anche lui Soffre di Turbinati nasali Minchia come mi guarda Nelle palpebre Nelle pupille Turbinati nasali Un po' Smangiati Aspetta che lo No Devi far rotete Rotate Rotate Perché questo è conciato Male La madonna Eh non posso cliccarci Cristo no Perché non posso cliccarci Uno di sei Figa Chiudiamo sta minchia Di Allora Con calma Due Orca puttana E non me lo fa cliccare Ma che cazzo gli è successo Meno male che Si è scorticato dietro Non me lo fa cliccare Ragazzi Non me lo fa Cliccare Forse non è abbastanza importante Per la signorina Qui Per l'esperta Un ostione Di quinto grado Sulla schiena Ma sono morti Tutti bruciati O sbaglio Anche questo potrebbe essere Un indizio particolare Magari vengono da Ah aspetta Ma vi ricordate che All'inizio del gioco La mamma e la figlia Mrs. Rebecca Stavano parlando E si è sentito Un incidente stradale Non è che questi qua Sono i corpi Di quell'incidente stradale Lì Avvenuto per bla 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 Eccetera eccetera Ma scusami La schiena Sbrucciacchiata? Facciamo finita di niente? Brucialo ragazzi Non so se sia lui E poi è già bruciato Dopo è troppo cotto Questo Notare come tutto Si è messo alla rinfusa Così è più divertente Andate a cagare Il braccio destro è qua E il braccio sinistro è di là Vabbè Le gambe sono sopra l'altra Incrociate Se lo faccio io Mi amputo un coglione Però Nathan Smith 35 anni Submit Pare che io abbia vinto Ancora Per favore no Ok 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 Per favore no Ok Ok Ci manca l'ultimo foglietto da bruciare Eccola là Nonna Nonna Nonnina cara Come stai? È tornata Niente formal lady per lei stasera Si fa la brava sì però Orca puttana Nonna 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 Ok Ok Nonna Oddio Non posso fare niente Nonna Non posso fare niente Nonna Ehi nonna Ehi Alzheimer la ragazza Perdonatela È una brutta bestia Nonna Mi ricordo di lei però Vive nei nostri cuori Anche i suoi soldi Quindi cosa devo fare? Mancava l'ultimo simbolo? Sì Cerchiamo l'ultimo simbolo Va Prima di Sbudellare il Corpo Però Allora Se l'altro era di qua Questo era di qua Prende il simbolo Sarà di nuovo di qua Scopriamolo Oppure fuori All'esterno Chi lo sa Vedete che ci sono delle robe blu per terra? Vabbè Quando si accende Si accende Fanguro Non è che magari è giù Col demonio Non credo che però I simboli possano essere fuori dalla struttura I marchi I roghi Ai 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 Non è che non mi faccio i fatti miei Non si accende Non si accende No dimmi che devo andare giù veramente Non farmi andare giù veramente Per Diana Mi sa che devo andare giù veramente ragazzi In cantina Sì è in cantina Dove ci stava aspettando La nonna Tra l'altro Bene Cristo Ma se non avesse aperto la cantina Orca troia Ah no ok Pensavo di aver visto un'ombra Se non avesse aperto la cantina Ha caricato Il computer ha caricato qualcosa Ah qua ci sono delle videocassette Cazzo sarebbe stato carino Trovar Trovarle Signora 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 Cattolota Ma se mi infilo io qui no Ehi Oh ehi 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 Non posso toccare nulla Che sta succedendo? Si è rotto qualcosa? Ho sentito un suono Sto sentendo robe che non sono normali Chi l'è? Ben Carson Grazie mille Ben Carson Una cretina No ragazzi mi sa che finchè non iniziamo a A lavorare qua Non credo che ci Cicciano fuori i nuovi indizi Mi sa che dobbiamo metterci sotto qui Si si Eh si 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 In bagno ci siamo già stati In bagno ci siamo già stati Vabbè via dai su Tempo di lavo Rare Il tempo di lavo Rare Il tempo di lavo Rare Chiudi qua Chiudi la Non ti girare Non ti girare Mi piace pensare che questi suoni Vengano fatti Si dal demonio Ma in Forme e metodi antichi Immaginatevi il demonio Con una lastra di alluminio gigante Che fa Per fare il suono del fulmine E che con le molle faccia Per farmi Paura O con una trombetta d'aria Avete visto che rumorista che sono? Avete visto? Non ho sentito? Visto Perché sentire Sentire è per pochi Ascoltare è ancora per più pochi Sto delirando Allora rompiamogli la mascella Uno Due Tre Questi hanno dei denti migliori Cioè Ah questi Gli americani Gli americani La dentatura americana Bianchi perfetti Tutti dritti Io sono nato con i denti storti Già gialli Questi ce li hanno già così Senza fare un cazzo Ed è pure morto C'è io i denti più brutti di un morto Mettiamole Gli eye e caps Poi che devo fare? Ah tutto il resto Bene Non voglio avvicinarmi più alla finestra Mai più proprio Forma al D No 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 Per terra Mani sulla testa Va tutto bene? Oh Cristo è successo È successo No Boo No Boo Boo Siete te Siete te Lo sapevo che salzava il cadavere Prima o poi No 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 no... Devo andare di là Signori E signore È stato un onore È stato un piacere Allora abbiamo Porca puttana, abbiamo due strade Il buio, l'oscurità, il nero assoluto La via di fuga Con tanto d'inculata perché parese che lì Ah, l'abbiamo già vista nella demo sta cosa Sì, sì, sì Che bella tu, che bella Abara I love you too Orca troia, ma che cazzo Sì, sì Lei era, se non sbaglio, in un manicomio Ma, ma, non sono Basta Lei, se non sbaglio, era rinchiusa in un manicomio I Grisk Non ci, perché ci sto andando Oddio, no Ok, no, no, non si può passare Meglio Quindi anche i sogni sono esplorabili Attenzione, magari se avessimo fatto qualcos'altro Saremmo potuti andare di là Bello, bello, molto bello Sì, sì Piano Qua non si può passare Orca troia Sì, si può passare Si può passare Si può passare Passiamo Passiamo Non posso fare nulla, però Vedi qua Dove sto andando? Mi, ma, 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 perché sono curioso? Che c'è qui? Che c'è sta roba? Antidepressivi Ah, ma tu dimmi Chi l'avrebbe mai detto? E mo? Eh Oh, oh Che è stato? Se qualcosa di alto e magro mi corre addosso Io spengo il gioco E quindi? Torniamo alla porta blu? La porta blu La porta, questa qui Boh, non lo so C'erano delle chiavi sulla scrivania dell'ufficio Sai che non l'ho proprio cagata? Aspetta Andiamo a vedere Che cazzo di suoni succede? Chiavi sulla scrivania dell'ufficio Ragazzi, non le vedo mica Non posso afferrare niente Forse qua dentro No No C'è un'altra scrivania? No, basta suoni, per favore Basta suoni Ah, là! E minchia Che palle Speravo di non vincere Speravo di non arrivarci E quindi? Ah, me l'ha fatto usare in auto, ma Devo prepararmi mentalmente e fisicamente Tranquilli, ragazzi È uno spray nasale Via Ci siamo Siete pronti? Ah Con un plie Si è allontanato E si è nascosto Nell'ombra Un ninja Un vero ninja Danza Danzatore mortale Bene Molto bene Chi è questa? La mamma? La nonna? Chi sei? Ah, 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 ah Che c'hai in mano? Una moneta Una moneta Una moneta Vabbè, si sente in colpa quel qualcosa Ho ancora la tua collana Una delle poche cose che mi hanno fatto tenere qua dentro Sti cazzi Io una lampada così in casa Ce la terrei Ok, il nostro coin Perfetto No matter how many years I printed it We're always there Molto confuso Ten year coin Vedi che eravamo dei tossici Senso fesa per i tossici Beh, se sei tossico sei tossico Cioè, nel senso Vedi La moneta dei dieci Dei dieci anni Minchia, dieci anni di pulizia Tanta roba Complimenti La mia moneta Della sovrità Non so se di droga O di alcol Ma, secondo me Faceva un mix Posto Eh, non la posso prendere però Signorina Ma siamo noi? Ciao Accalte E invece Eeeh No Stavamo volando? Non so se siamo Che brivido lungo la schiena ragazzi Che minchia Madonna Brucerà adesso? Abbiamo un quarto d'ora Oh cazzo Ho visto qualcosa Pollaia to la sopra Era la polvere Ci siamo? Ah No, 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 no Cos'è sta roba? La porta è aperta Che ho fatto? Che simbolo è? Che cazzo di simbolo è? Che simbolo è? È una specie di Di, 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 di Non lo so Non ne ho idea La porta è aperta La porta Cosa vuol dire? Adesso parte il countdown Ma io non ho finito di Di spulciare il cadavere lì Era una roba tonda È questo È questo È questo È questo È questo Abbiamo il marchio Abbiamo il marchio Abbiamo il marchio Abbiamo vinto Dobbiamo capire qual è il corpo Però ragazzi La porta per gli inferi Possibile La porta di sotto è aperta? No, la porta di sotto E E la porta No Minchia Dovevo ancora fare sta roba ragazzi Non ce la farò mai Eh, fangulo Ah, perché c'ho il marchio in mano Puttana vacca Che succede? Che su sono? No Facciamo che ci mettiamo Nel nostro angolo Dell'invincibilità Al sicuro Vicino alla stampante Andiamo a organizzare Un pochino l'inventario La clipboard ci serve A meno che vado di memoria Mi sa che la clipboard è obbligata Perché io non ho abbastanza memoria Ah, il marchio Non lo possiamo buttare giù Ottimo Che succede? Ci sentiamo un po' Un po' drogatelli Non so se l'ho già messa sta roba dentro Perfetto Ho cannato Ah L'abbiamo già messa sta roba ragazzi Ok, il metanologo non l'abbiamo messo Cosa manca? Ah 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 Potremmo mettere il robo del diavolo Il sangue di Non so come chiamarlo Una diavolessa Che nome potrebbe avere Luisa È lui questo bruciato Siete sicuri? Secondo me no È possibile come non è possibile È semplicemente un bruciato Dobbiamo scoprire qual è il corpo È lui Dino Secondo me è lui Armadietto in alto Orco 2 Chi è? Dica, c'è un'ombra lì Salve signora ombra Dica Rebecca Rebecca Luisa è mia madre Bene, tua madre è il diavolo Quindi? Eh, perché mi dai fastidio Se non vengo è peggio? Vengo allora, eh Oh Cristo Dio No, un'altra volta No, un'altra volta No, e dietro di me c'è un corpo E' il corpo del tipo Eccola là Stavolta non l'ho visto però Vabbè, è già successo E si ripetono un pochino No, mi inginocchio Mi metto in un angolo Mani sulla testa Pronto? Pronto? Rebecca Per sapere il giusto ordine Dei sigilli E' finita Per sapere il giusto ordine Dei sigilli nella ruota Devi confrontarlo con i nomi Dei demoni presenti Credo di non aver voglia Di fare ciò Quindi Libererò il demone Di nuovo Oddio, poverina E' disperata Perché non ho una clipboard Quindi? Non mi ricordo più Che cazzo devo fare Mi serve la clipboard per forza Dov'è la clipboard? Qua Il glutaraldeide Lì La roba La roba Ma la roba Però non l'abbiamo già messa Sta cacata Dove cazzo era? Non mi ricordo Ah qua Nell'armadietto Ui babò No 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 Io lì non ci entro No 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 A posto? No che ca... Come? Non ne sono mica molto sicuro Però se parla al cadavere Direi che è quello Impossessato Indemoniato Ora che me lo dici Fammi ci ripensare Va Cristo 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 Ma non posso rimettere Il marchio via Così non mi rompe i coglioni E lo ciccio fuori Solo quando mi serve? Eh no E' rimasto lì Ah dove l'ha messo il marchio? Ah l'ha rimesso a posto Ah allora ok Ottimo 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 Ok Ok Va come mi destreggio Via! Non sta accadendo nulla L'ha detto perché l'ordine è sbagliato Non credo Dino in simboli E' lui Non è l'ordine giusto Magari non è la persona giusta Ha finito o no Non mi piace Non mi piace Ho sentito un suono Non mi piace Lì c'è un libro tra l'altro Il tizio Sappollaio E' sempre su quel libro lì Attenzione Un furmine Quindi mi dite che nel pc Ci sono I nomi Dello stronzo I nomi del demone E cerchiamo sti cazzo di nomi del demone E dove stanno i nomi No 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 Non c'è bisogno Dove sono i nomi del demone? Ah forse era qua Aspetta Non riesco a leggere Four sigils Of bombage Below are three houses And all no Conventuos Demon With them Inglese eccezionale Bene ma E quindi? Ah Se ci clicco sopra Mi dice che cazzo Ma vaffanculo Direi La desolazione Varichet Fermo Si sto dicendo ad alta voce Dei nomi di demone Teshak E Uzz Uzzcaret Caputana Come si fa a tornare indietro? Così L'ho visto adesso Invidiosi Sadatazel Kovos Mazet Immolation Malmet Anek Telduk E Sebos Vabbè se muoio dopo sta live ragazzi E' colpa degli sviluppatori Vabbè ma mo che abbiamo tutte ste robe qui Allora devo capire In base ai simboli che abbiamo Non sono questi Non sono questi Perché questo non c'era Allora c'era la mezzaluna Me lo ricordo C'era il 5 che sgocciolava Eccolo qui E il 5 lungo Quindi dobbiamo trovare Un sigillo che ha tutte e tre ste robe 5 lungo c'è Mezzaluna pure Ma non c'è la sgocciola Quindi non è qua Vediamo se è negli invidiosi No non è questo No non è questo Eccolo qua E' questo qua Quindi Ricordatevi Ragazzi aiutatemi E questo qua è l'ordine Dei 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 simboli Va bene Quindi è Mazet Cerchiamo di capire come cazzo metterli però Ricordatevi voi Quindi il cerchio sopra Il 5 a destra Sotto lo sgocciolo E di là la N Va bene Va bene Quindi il cerchio sopra Il cerchio Il cerchio Il cerchio Ma Cristo Ma non è Ma non è questo No ci sono altri simboli No 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 aspetta Non è questo Eh no Oh si Eh no è giusto Come faccio a cambiarli Non me lo far fare Devo rifarlo da capo Deve rimetterli a posto Ma che due coglioni Oddio ma è un delirio La N era qua ragazzi Ok la N era qui Non mi ricordo più scusatemi Questo era qua sopra Ok Il 5 che sgoccio la forse era in basso Che sto facendo E il 5 era qua giusto Era così Confermatevi Che non mi ricordo più Posto giusto Take the mark Ehi Ok Ok non va bene Non va bene Sta succedendo Ci sta scrivendo sopra qualcosa Oh cristo santo è lui Non posso Non posso accedere a niente Oddio Oddio E niente ciccia Non posso far nulla Ah che brutta idea Ma il tubo Si è impallato il tubo Lo sta dilaniando dentro Vabbè tanto è morto Voglio dire E non si muove Non posso toccarlo Ragazzi Non posso fare un cazzo Ti faccio un trocar Così al volo No ragazzi Non posso fare nulla Non so cosa sia successo Si è smontato dal lettino E se come è buggato Ottimo Ah Aspetta Magari se cazzeggio in giro Partirà un jumpscare O non lo so Esatto Sì Sento una Soddisfacente Soddisfatto risata Provenire da? Da qui Porca troia Io me ne voglio andare Io me ne voglio andare Io me ne voglio andare Io me ne voglio Che è sta musica Che cazzo No sta saltendo Sta partendo la musica d'ansia Ragazzi Sta arrivando Oh Sta sbattendo qualcosa Lo sentite? Lo sentite? No Non va bene Ragazzi Abbiamo fatto una cacata Ah però Ok forse Forse è finito Il momento Raptus Stavano buss Stavano solo bussando Stiamo calmi Non posso ancora fare niente Veramente E quindi E come cazzo faccio Ragazzi Ci abbiamo sulla cartellina Magari mi dice cosa devo fare Eh no Turn off the pump Si è bagato ragazzi Non ci posso credere Dai ma mi si è bagato così Veramente Però Non si direbbe Che si sia bagato Perché alla fine Gli eventi paranormali Ci sono ancora Si sono bagati i tubi Dite che si è bagato Ragazzi Ma cazzo Dai Alle 11 spaccate Si è bagato Ce la stavano facendo Dai Per un bug Mi tolgono la vittoria Dalle mani per un bug Non ci credo Devi riavviare il gioco Non ci credo Eh ma spero che mi faccia Ripartire da qui però Vediamo se devo scendere giù Magari la tizia Non c'è più E' sempre chiusa dentro E' sempre chiusa dentro Strano che non ci chiuda dentro A noi Si è fulminato qualcosa Non è bagato Torna in macchina E c'ha No ma il disco me lo ricordo Ragazzi Abbiamo detto che il nome del mostro Era Tenetly Mazet Mazet E che semplicemente Mi sa che E' andata Prova con la tipa Ma perché la tipa? Ah dite che non è quello giusto? Che cazzo di suoni? Perfetto Allora Tralassando il fatto che non ho il carrello Il carrello Perché il carrello Si è bagato sotto il corpo di là Quindi non posso neanche portare il corpo Fino all'inceneritore Non so che cazzo fare Ah se l'RV cambiano i simboli Si sminchiano tutti Che cazzo? Oddio E poso il marchio Dove lo poso? Lo devo posare sul suo cop? Sto entrando nel buio Sto entrando nel buio Sì Proprio me ne sono fregato altamente Ragazzi Non 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 va Non so cosa dirvi Si è bagato credo Posiamo il marchio Ma Nope Però che stronzata Non può? Sto cliccando un po' dappertutto Peccato sta cosa Sì continuano comunque ad uscire gli stronzi Sì sì Il collo è bagato col tubo L'ho già visto Riavviamo Vediamo se riavviando si può fare Però cazzo All'ultimo così Perché se mi fa ricominciare da capo Chiudo ragazzi Lo facciamo la prossima volta Perché comunque dovrebbe salvarci da corpo a corpo Quindi teoricamente 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 Schippa sta merda Grazie Continua Vediamo un po' Attenzione Da dove ci fa partire? Eh ci sono Vabbè ma ragazzi ma ci sta Dai il gioco è appena uscito Era in early access È stato in early access per poco Comunque No da capo non c'ho voglia No ragazzi Lo finiamo la prossima volta Dai La prossima volta facciamo Questo finale qua Buono E poi cerchiamo di fare gli altri Perché dovrebbero essere Gli altri Aspetta eh Vediamo un po' Dobbiamo impossessare Dobbiamo Ammazzare il demone Debellare il demone Farci impossessare Quello l'abbiamo già fatto Perché come sapete Quando gioco io i giochi I giochi finiscono molto bene Poi Imbalsamare 5 corpi Ah no però 5 Ma questo è quello che ho fatto? Bruciarne uno Completato un turno Vabbè un finale l'abbiamo fatto Quello cattivo Dobbiamo fare gli altri 4 Teoricamente ogni giocata Si riesce a fare un finale A meno che Il gioco Vi si ci impalla E vi ci si mette I bastoni Nel culo Vabbè Beh ragazzi La prossima volta Dai Non succede niente Fico però Mi piace molto Penso che sia uno dei migliori horror Usciti ultimamente Sono molto felice Di averlo portato E sono molto felice Che gli sviluppatori Finalmente l'abbiano rilasciato Figo 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 Però 5 finale Un po' troppo Secondo me A chi sta andando Buonanotte Invece a chi resta Come al solito Ci facciamo le 4 chiacchiere Per chiuderla Con un sottofondo musicale Alzecato Mi manca il Natale Io non vedo l'ora Che sia Natale Perché Vabbè A parte essere appunto Il mio compleanno È È Natale Ragazzi È Natale Ed è inverno Dio buono Basta sto caldo di merda Perché mi date Fastidio Col caldo tutti Oggi ho litigato ancora Con qualcuno Per strada Ogni giorno che esco Io litigo con la gente Ragazzi Non ce la faccio più C'ho i nervi un po' Eh Si sente? Ma sì Che si sente Saluti il mio ragazzo Dario Certo che no Mi manca il piumone Mica davvero Quella sensazione calda Quel profumo di cuccia Grazie mille A tutti quelli Che hanno fatto le sabi Cheers Che magari ho saltato Ragazzi non vi ho ringraziato Veramente E le iscrizioni Ovviamente ragazzi Grazie bestiace È sempre un piacere Eh perdonatemi ma Grazie che mi fate compagnia Ogni sera Scusate ma stavo giocando Stavo avendo paura Eh ma non vi leggo Troppo veloci Bone No domani non si continua Domani c'è altro Domani c'è altro Domani dovrebbe esserci Fallout 3 Ah poi c'è No che Fallout 3 C'è il gioco handling Il gioco delle volpi Lo portiamo Vi ricordate che c'era Stray Il gioco del gatto Ecco Lo stesso giorno Uccito il gioco delle volpi E nessuno se l'ha cagato Ma noi Ce lo cagheremo Noi giocheremo Il gioco delle volpi Uno dei migliori horror Madison Lo trovi su Steam? Madison penso sia uno dei peggiori horror Che io ho mai giocato in vita mia Siamo a Visage Francamente Ma Mostrum E Mostrum L'abbiamo giocato l'altra volta Ritornerà? Possibile Come si fanno le sub con Amazon Prime? Basta collegare Amazon Prime A ToveEach Una volta che colleghi le due piattaforme Attraverso il sistema L'impostazione di sistema Dell'account Troverai la possibilità di Subarti a un canale Gratuitamente Quello che vuoi Sotto c'è una piccola clausola In minuscolo Che prevede Che tu ti subbi Per forza A CoopTV Prego Visage orribile Ricordo però che la scena Del piano e della cucina Mi avevano fatto ridere Ma che faccia ridere un gioco Sì Ma io sto valutando Gli horror Per la componente horror Visage mi rompe il cazzo Madison Mad High Son Stessa roba Due palle allucinanti Non succede niente I jumpscare Sono citofonati alla follia E troppi enigmi Troppi enigmi Così è più bello C'è più action Succedono robe randomiche Secondo me In uno dei finali C'è un plot twist Con il tizio biondo Il capo Non mi sembra sospetto No beh Il capo è sospetto Fat pigeon Grazie mille Da dove nasce il nome Coop tv Quando Quando io e Andrea Decidiamo di aprire il canale Dovamo scegliere Tra diversi nomi La prima idea Che ci venne in mente Fu Che cazzo Mi ha cambiato il video Fu Couch Coop Couch Coop Cooperativa sul divano E se vi ricordate Per i più vecchi Quando facevo la live In laboratorio Nel vecchio studio Nel vecchio laboratorio Di orificeria C'era questo divano Nero in pelle Ecco Inutile dire Che sembrava Brothers Quindi mi hanno detto No Evitiamo Quindi mi hanno cercato Qualcosa Che Facesse Capire La cooperativa Tra me e Andrea In generale Tra noi Che giochiamo insieme Perché Lo streamer Non gioca mai Da solo Gioca sempre con voi Gioca sempre con la chat Quindi il senso è quello Della cooperazione Tra bestiacce Per arrivare A battere il gioco Ma a battere anche in generale Di conseguenza Coop TV Il nome più orripilante Mai inventato E che spesso Fa ridere le persone Dicendo Ma cos'è Il canale Della cop Lo dico Con questo accento Perché generalmente Sempre Sempre questa battuta Viene da Un certo tipo Di posto Mi sa che la tipa Nel termiterato Era la vecchia Aiutante Che lasciava i biglietti Venerdì Spider-Man Su PC No Esce a settembre Fanculo Carino Cop TV Perché è immediato Però ogni volta Ci penso E dico Che nome di merda Anche perché Non lo so È rappresentativo Del canale Perché è il canale Però Cristian Grazie mille Bestiaccia Marcolino Che gentile Grazie La migliore scena Ora Era il coppino Di The Quarry No Siete Siete arrivati Magari siete arrivati Un po' presto Un po' tardi Ragazzi Ci sono state Di quelle Horror Night Indimenticabili Anche in cooperativa Con Andrea Ma torneremo a fare Qualcosa in cooperativa Con Andrea La Couch Coop Insieme sul divano Spalla a spalla Perché la migliore cooperativa Ragazzi è quella Fatta con gli amici Sul divano C'è nel senso Avete capito Cosa intendo a dire Un Horror poco giocato Che consigli? Beh se è poco giocato Capito Basta con sto Cry of Fear Non risponderò Non risponderò Finché lo chiederanno Quando non lo chiederanno Quando smetteranno Di chiedere Risponderò Esce il 12 agosto Spider-Man Sì Lo porteremo Fasmofobia In cooperativa Con Andrea Ma sto cazzo Di fasmofobia Ragazzi Mi fa cacare Non lo sopporto Non mi piace Ho visto qualche roba Ma che Due coglioni Mi ha giocato Limbo Inside Yes Bellissimi Voglio vedere Andrea che si spaventa Andrea non si spaventa Non teme niente Neanche la morte Ma non può guardare Il suo riflesso Neanche il suo quadro Un suo quadro dipinto Un suo ritratto In casa sua Non può guardarlo Se lo guarda In vecchia di botto Si essicca e muore Metal Gear Rising Così a cazzo Penumbra Ci sta Povecchiotto Ma ci sta The Last of Us Lo porteremo anche quello La versione remake Ecco tra l'altro Questa è una cosa interessante Si stanno tutti lamentando Del prezzo del remake Di The Last of Us Ragazzi non è fatto Per chi ha già giocato il gioco Io ovviamente lo acquisterò Per portarlo sul canale Perché come ogni gioco nuovo Li portiamo Ma non è fatto per chi Per chi non ha giocato The Last of Us È fatto per Per chi ha giocato The Last of Us Scusate È fatto per chi non ha giocato È un remake Poi che si è fatto Per fare soldi Grazie al cazzo Ogni roba è fatta Per fare soldi Costo 80 euro Lo so Però è anche Esce su Playstation 5 E come ogni esclusiva Costo 80 euro Questo è un remake Ma avrà dentro Un rifacimento di gameplay Blah 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 E altre cose Che vanno a giustificare Un pochino il prezzo Non lo volete comprare Vi sembra una spesa esagerata Bene Non lo acquistate Non rompete il cazzo Sotto ogni posto Di The Last of Us Sì ma 80 euro Col cazzo Perfetto Nessuno vuole i tuoi soldi Porterai il nuovo vampire Mi fanno cagare i vampiri Hai mai giocato Little Nightmares Sì ed è un gioco meraviglioso Sia uno che il due Baionetta che ne pensi Che si vestisse Un po' di più Quella zozza Attenzione Sto ovviamente scherzando In parte Ti prenderei qualche giorno Di ferie Sì Stiamo cercando di capire Quale Ma probabilmente Quale Ma probabilmente Ad agosto Fino agosto O una settimana O tre quattro giorni Se riusciamo Una settimana Come si chiama Il gioco di domani Handling Vi faccio vedere il trailer Dai Non andate via Stay tuned Così vedete che cosa Portiamo domani A noi ci piace Portare questi indie Un po' in particolare Che magari vi facciamo Scoprire qualche piccola perla Come cazzo L'ho scritto Aspetta che tolgo La musica qua Ecco Ne ho messa un'altra Un genio Eccoci qua Attenzione che c'è Una live Nella live Un matrix Questo qua È il giochino Però questo è il trailer Vabbè sì Vediamo anche questo trailer Tanto è corto Non è male È molto triste E attenzione Preparate i fazzoletti Perché domani Ci si commuove Non posso mettere Troppo alto il volume Altrimenti ci bannano Per copyright Ormai Lo sapete Quindi parlerò sopra In continuazione Nel basso e fitto bosco La volpe rossa Caccia le fate Bello Quella è una fata Interpretiamo una mamma volpa Con le sue volpi E il nostro scopo è quello di salvarla Ah è morta Che cazzo è Ah sì sì Abbiamo salvato un cucciolo Non è disegnato così Però il gioco Dopo ve lo faccio vedere La grafica e il gameplay Molto bello Molto ascetico Molto ascellare Ma il piccolo sta bene Verrà successivamente Dilaniato Da un branco di lupi Ed eccoci qua In un mondo inumano Dove l'umano è una bestia E la bestia è l'umano Handling Interpretiamo le volpi Dobbiamo farla La volpe mamma Dobbiamo far sopravvivere i piccoli In questo mondo post apocalittico Almeno questo è quello che ho capito io Però tanto 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 figo Se non sbaglio Siamo pure le ultime Le ultime volpi Ecco questa qua è la grafica di gioco Questo Shell shading Questo Eh? Questo pongoso Eh che bello Penso sia però un gioco narrativo Non pensate di essere Cioè non troverete roba Molto action Non so se ci sono Oddio quanto sono piccoli quei cosi Morbidi C'è il fuoco Il devasto Il gameplay è più o meno Tutto questo così Tutto questo così Attenzione all'Australia Ma perché amante Porca puttana È sulla falsa riga di Inmost Limbo Quei tipi di giochi là no? Porca troia No Sì si piangerà domani Si piangerà Ma ricordatevi sempre Sono solo Fottuti pixel Sono solo Fottuti pixel Sono solo Fottuti pixel Sono solo Fottuti pixel Eh? Ricordatevi perché poi Altrimenti Mi è andato in depressione Iniziate a fregnare Io non sopporto L'odore delle lacrime Di gioia Di tristezza si Anzi quello mi inebria Allora Oh ecco Non mancava la musica Quindi in sostanza Questo è quello che giocheremo Sarà un trauma Tipo la mamma di Bambi? Ho rivisto quel film E miliardi di volte Solo per vedere La scena del cacciatore Il problema è Che succede nella vita vera? Cosa? Il post apocalittico? Una volpe Che cerca di salvare Le quattro volpi Mentre un cecchino Sta sparando E nel mentre Ci sono delle acque reflue Un tizio che con un martello Cerca di colpire una volpe Si colpisce da solo? È ovvio che è atto A sensibilizzare Per la violenza Sugli animali Ma soprattutto Sulla questione ambientale L'uomo sta mandando A puttana il mondo Lo so ragazzi Ma non immagini Non viaggiamo troppo Con la fantasia Dai, su Sapete che adoro gli animali Hai giocato La trilogia dei Tomb Raider Se si Ti è piaciuta? Detesto Lara Croft L'ho finalmente detto L'ho detto Sei una brutta persona Oh, finalmente Grazie Alien Isolation Già provato Già portato È stata una bella Una bella Aurora Knight Più Aurora Knight Non finiva più Figa No, Walking Dead All'Atletair Non l'ho mai giocato Gioco con You Sono già depresso Grazie per Chi è? Cinque mesi Disturbatore Grazie mille Grazie mille bestiace Traumatico il cartone animato Le avventure del bosco piccolo Sai che non mi ricordo Robin Cosa sia? Non me lo ricordo Cos'era? Però Qualcosina Vedi game play di Chernobylite È un bel gioco Lo conosco Lo conosco Ma il gioco di Shrek? Puttana vacca C'è il gioco di Shrek? Ma intendi quello per Playstation 2? Abbiamo giocato a Project Zero Yes L'hanno sistemato? Perché l'ultima volta faceva cagare Gabo grazie Ecco L'ho detto Lo trovo Alien su YouTube Non mi ricordo ragazzi Perché abbiamo avuto Sta Idea da deficienti Di aprire il canale YouTube L'abbiamo aperto L'abbiamo chiuso L'abbiamo aperto Twitch Siamo andati avanti con Twitch L'abbiamo aperto YouTube Un anno dopo Che siamo andati avanti con Twitch Quindi ci siamo persi Metà delle robe Le abbiamo persi Le abbiamo lasciate indietro Perciò Un sacco di Di vecchie Live Sono andate perdute Quello che resta Sono su Instagram Vi invito a iscrivervi Su Instagram TikTok Tutti i social in generale I clipini Delle vecchie vecchie serie Quella è l'unica roba Che è rimasta Poi vabbè Adesso comunque tranquilli Perché pian piano Recupereremo tutto Poi divideremo anche YouTube A settembre Non sto bene A settembre Divideremo Splitteremo YouTube Ci sarà Il YouTube classico Per le live Cioè Quello dove siete iscritti adesso Che ci saranno soltanto I video delle live Con Massimo Qualche stronzate in più E poi ci sarà Un altro canale Invece dedicato a video Editi Editati Un po' più interessanti Gli off screen Blah 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 Perché ci sembrava giusto Suddividere Perché magari la gente Entra dai social Pensando di vedere Totta E si trova altro Quindi Splittiamo un po' Perché poi alla fine Voglio dire È inutile che ci giriamo attorno Doppio canale Doppi guadagni Non vedo perché Non essere sincero Vero Sincero Me le mandi? Cosa? Sì Tanto a voi Non cambia niente ragazzi I video Li potrete vedere allo stesso Semplicemente Ci date una mano in più Vi iscrivete Tutto due i canali Era uno Stratega Dell'internet Una chiara Ferragni Ma senza i capelli E i piedi belli C'è io i piedi belli Ci sono del sì Di Alien Su Youtube Alien Non c'è comunque Cosa ne pensi Delle backrooms? La... Dei giochi Sulle backrooms O sulla backroom Se basta Come creepypasta È una creepypasta È una stronzata Però è una bella idea Però è una stronzata Avevo trovato A fare le donazioni Con questa domanda Però Volevo chiedere Se per piacere Sai consigliarmi Qualche libro Per addentrarmi Nella mitologia Greca Nordica L'ho già detto Se avete visto i video Su Youtube Tra l'altro Oggi è uscito L'altro video Su God of War Bella ripassatina totale Su Google Che male non fa Ma soprattutto L'Avamal Il discorso di Odino Ci sono tutte quante Tutte quante La lettura Il galateo anche Perché no Di un vero uomo E poi vabbè L'Eddenprosa ovviamente Difficile trovarla Tradotta bene Dall'islandese All'italiano Però c'è Va e cerca in giro Non mi ricordo Come si chiama Mila Milafois Milafois Una ragazza Una signora Una ragazza Una signora Che ha fatto Un sacco di studi Sul libro Sulle rune Ce n'è Ce n'è un botto Di roba Ragazzi Cercate Cercate Io posso dirvi Titoli eccetera Ma vi dovrei dire Anche come si scrivono Perché alcune robe Sono strane Però c'è Denise Grazie mille Rottobalhalla Hai mai fatto Hai mai fatto sogni strani Dove eri nudo E ti moriva qualcuno davanti Questa è una cosa Questa è una cosa tra me E la chat E la vecchia chat Voi lo sapete Voi lo sapete Vi ricordate Andrew Garfield Voi lo sapete Io si Già Con questa meraviglia Con questa meraviglia Direi di chiudere Bene Devo andare Il cane ha deciso Di smontare le scale Del suo palco Ci vediamo domani Alle 21.30 Con Handling Una storia su delle volpi Che sicuramente Si sanno comportare bene Diversamente dal mio cane Che decide ogni tanto Di sfasciarmi casa Fate i bravi Fate i buoni Vi voglio bene Grazie per la vostra compagnia E niente Va bene? Ciao bestiace Ci vediamo domani Bye